Primo premio assoluto alla parrocchia San Lorenzo Porto Venere Primo premio assoluto del concorso Presepi, davvero un onore, una bella soddisfazione e il frutto di tanto lavoro. Come è nata l'idea di fare questo Presepi? L'idea è nata da noi, un gruppo di... quant'è? 20 anni che facciamo il Presepi non c'è presente una nostra amica Emilia Baracco, poi la Deborah Calcanini, Franca Quagliolo, Vittorina Simoni e Marco Carpena che è stato il pittore che ci ha dipinto il dietro della scenografia del Presepi. L'idea è nata da questo orto che abbiamo, non so chi l'ha visto, sotto al castello che è un orto del frate e di questa idea ci è venuta visto che appunto il fondatore dei Presepi è San Francesco, della famiglia insomma dei frati abbiamo detto perché non farlo in quest'ambiente e farlo conoscere a tutto il mondo come ha fatto lui insomma e portare avanti questa tradizione. Ecco un messaggio bello richiesto anche dal Papa di fare il Presepi qual è il messaggio che avete voluto dare con un Presepi così particolare? Il messaggio di insomma portare... tanto è bello perché ci si ritrova sempre tutti insieme quindi c'è un'aggregazione, insomma è una cosa bella, positiva e poi per la pace nel mondo per far portare come ha detto il Papa. Tanti i Presepi fatti ma un unico pensiero, un unico messaggio che emerge da questa straordinarietà della Natività. Sì decisamente, tanto come messaggio di fede è proprio la nascita del Figlio di Dio che si fa uomo per noi e in Betlemme ecco abbiamo questo evento storico molto bello poi bella la partecipazione quest'anno in modo particolare anche certamente stimolata dall'invito di Papa Francesco però direi anche radicata in una tradizione non indifferente e poi la bellezza del Presepi che è veramente come dicevo prima della premiazione un segno di unione, ecco lì non vi è discriminazione, non vi è lontananza ognuno viene raccolto, può essere ricco, sapiente come i magi può essere più diciamo alla buona come i pastori o la gente del popolo di fatto tutti convergono attorno a quella scena dunque l'invita a convergere attorno al Presepi in quella semplicità in quella serenità e anche in quella ritrovata armonia di cammino che il Presepi dà a noi, al credente ovviamente perché è un dato di fede a chiunque altro perché è un dato storico che certamente incide, ha inciso e spero inciderà ancora anche su tanti aspetti della nostra vita non ultimo quelli dell'arte, della letteratura e della musica Grazie a tutti!